È in programma per il mese di marzo a Catania Facciamo Centro, il meeting promosso dal tavolo delle imprese che punta alla valorizzazione del centro storico della città etnea, luogo dalle anime diverse e protagonista della trascorsa primavera catanese, che secondo i promotori del meeting è adesso simbolo di abbandono e trascuratezza, di contrasti culturali ed economici. È un progetto che prevede più che altro di mettere insieme tutte le realtà che fanno qualcosa di buono per il centro storico e la città, portarlo all'attenzione di tutta la collettività e riscoprire anche il senso di comunità che sta dietro alla città di Catania e rivederlo un po' come nella vera primavera. Numerose le organizzazioni che parteciperanno all'iniziativa, come Lungomare Liberato, Lega Ambiente e Catania Mobilita, legate da un unico scopo sociale, il miglioramento della qualità della vita.